Avete mai provato un cordon bleu di ceci e patate? Eccoli pronti in pochi minuti! Frullate i ceci in un mixer insieme al rosmarino tritato e al sale aromatizzato. Dovrete ottenere una crema morbida e omogenea. Schiacciate le patate con uno schiacciapatate ed aggiungetele alla crema di purea. Poi parmigiano grattugiato e mescolate la purea fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo. Formate cordon bleu aiutandovi con un coppapasta, quindi sul fondo mettete un po' di composto, poi una fetta di scamorza e ancora composto di ceci e patate. Assemblate il cordon bleu si gillando bene i bordi e poi passatelo direttamente nel pangrattato su tutti i lati. Procedete alla cottura di cordon bleu in padella con poco di oliva sul fondo di una padella antiaderente e girate la metà cottura. Sono velocissimi, con un cuore filante di scamorza e strabuoni! Ciao! 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 Ciao!